Si avvicina al secondo Natale senza lavoro. Sarà più drammatico del precedente poiché l'iniziale preoccupazione si è trasformata in vera angoscia per il futuro. E' questo il grido d'allarme lanciato dai lavoratori licenziati dalla Intex SPA dell'Aquila. I lavoratori, da un anno in presidio permanente nel camper collocato di fronte a Palazzo Silone, nella sede della regione Abruzzo, infatti rilanciano il loro allarme e ricordano che l'avvertenza è iniziata il 22 dicembre dello scorso anno, con la chiusura del laboratorio aquilano e il licenziamento collettivo di 68 ricercatori. Il 2018, trascorso fra incommense legali per ottenere le spettanze di legge e le azioni volte alla ricollocazione, ancora solo sulla carta, in ambiti lavorativi nei quali poter applicare le competenze e le esperienze dei lavoratori e ormai è al termine e pare non ci siano grandi soluzioni. Il Natale, dicono i lavoratori, è comunque il momento in cui ci si unisce e ci si sostiene. Per questo i lavoratori invitano tutti coloro che le hanno sostenuti in questo anno ad una piccola colazione natalizia che si svolgerà il 24 dicembre alle ore 10 nel loro presidio di fronte a Palazzo Silone.